Amo dei festi, c'è il Giorno Vittor e il resto per festeggiare le donne in tutta la loro bellezza. In tutta la loro bellezza e sensualità in cui ballare è un momento di intimità. Sbato è una gioia con se stesse. E con un caloroso applauso si ricordi di introdurli, con un'atmosfera magica, tutte le stile orientale ed ecco voi orienta spiriti. Bello padre! Un'atmosfera magica Un'atmosfera magica Un'atmosfera magica Un'atmosfera magica Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.